buonasera amici e amiche di nova news 24 inizia una nuova puntata dell'isola dei famosi ed è subito sfida tra i tre naufraghi che sono stati ovviamente nominati tra i quali si nasconde il prossimo eliminato attenzione perché subito la puntata parte con una luxuria che mostra i temi caldi della serata tra liti e lotte ci sono tantissimi ovviamente diverbi tra i naufraghi poi la lotta tra samuel peron ovviamente edoardo stoppa che sono due grandi leader e inoltre c'è una grande novità il modello ucraino arthur dainese ovviamente interessato adesso anche a carina oltre che a chiedi e cominciano a nascere ovviamente le prime gelosie ma questi temi caldi della serata ma la prima cosa che viene fatto ovviamente è la salvazione così è chiamata il rito della salvazione che vede proprio i tre naufraghi in un gioco in cui vengono messi in bilico su una pedana di legno dove ovviamente tramite un macette sole del noir casalegno potrà tagliare la corda e far cadere i naufraghi più votati in acqua tra di loro si nasconde un solo naufrago che verrà ovviamente salvato i primi a cadere sono proprio greta zuccarello nell'ordine e poi alla fine arthur e benese che andranno direttamente un televoto flash a salvarsi per ora e aras senol lui che come avevamo già anticipato nei sondaggi è primo ed è amatissimo dal pubblico uno di quelli che potrebbe addirittura vincere l'isola e se aras senol è il più votato greta sembra quella meno votata adesso si è perso un televoto flash che sicuramente decreterà un eliminato ovviamente i sondaggi danno greta eliminata ma col televoto flash potrebbe cambiare qualcosa diteci cosa ne pensate voi se vi piace tutto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre